In data 8 marzo, nello scenario dello shaman di Isola delle Femmine, un'atmosfera elegante e suggestiva è il gran galà della donna. Un evento diverso dal solito, cena a spettacolo, sfilate di moda dove la protagonista sei tu, ospite De Nore e Stefano Piazza, momenti razzati e tanto altro. Si invitano a partecipare anche mariti e fidanzati per informazioni 091-6668-703 o il 320-3531-886.